Nuovo listing su BitGet oggi alle due ragazzi, The Don's verrà listato nella meme zone, come abbiamo visto nel video come guadagnare su BitGet senza fare trading, uno dei metodi per guadagnare sono i nuovi listing, quindi lì vi ho detto di tenere d'occhio il sito, scusate, il gruppo ufficiale BitGet Italia Annunci Ufficiali, dove danno queste informazioni, però oggi vi faccio anche un video perché sono buono, andatevi a vedere praticamente il video, ve lo metto nelle schede, come guadagnare con BitGet senza fare trading, che è molto interessante, i nuovi listing sono interessanti, quindi sono un'opportunità, ovviamente non sono consigli finanziari, fate le vostre ricerche perché non è detto, abbiamo visto però in precedenti video come i progetti hanno fatto il 130%, il 50%, quindi vi segnalo anche questo, e poi fate le vostre ricerche, non sono consigli finanziari, non investite soldi che non siete disposti a perdere, le solite cose, mi raccomando, però alle due c'è questa meme coin, ok, siamo entusiasti di annunciare che The Don's sarà listato nella meme zone, il grid trading spot sarà disponibile in contemporanea, quindi alle 26 maggio, trading alle ore 14, quindi dalle due basta andare, qui c'è proprio il link diretto, vediamo, però basta andare sul mercato spot, cercare Don's e acquistarlo, ovviamente alle due l'ho acquistato e poi si tratta di pura speculazione, di solito ecco perché queste sono opportunità, vedete mancano tre ore nel momento in cui registro questo video, sono opportunità perché di solito quando c'è un nuovo listing, diciamo il prezzo ha dei forti pump, però ragazzi si tratta di poi rivenderlo poche ore dopo, a meno che voi non vogliate sposare il progetto, ci crediate, volete andare a lungo termine, però ecco, fate le vostre dovute considerazioni e ricerche, e andiamo a vedere di che si tratta, Don's è un modo divertente ed entusiasmante per partecipare al mondo delle criptovalute, mostrando anche il tuo amore per i meme, con Don's puoi godere di tutti i vantaggi di una valuta decentralizzata, condividendo anche risate e buone vibrazioni con altri investitori, questo è diciamo il riassunto, oggi è alle due, vi basta andare su BitGate, se non avete un account iscrivetevi, c'è il mio link, avete il 10% di sconto sulle FI se utilizzate il mio link e poi vi ritorna il 10% di quello che depositate, fino a un massimo di 100 dollari, l'offerta è valida fino al 30 maggio, sono gli ultimi giorni, però ecco, se è la prima volta, in descrizione trovate anche tutti i video tutorial su BitGate, su come creare il conto e quant'altro, ok? Vi iscrivete, così avete anche il bonus del 10% che vi ritorna, e potete alle due, basta andare su qui, adesso io ce l'ho in italiano, faccio scambio, trading spot, andate a cercare Dons qui e lo acquistate, magari vi versate gli USDT e nella descrizione c'è tutto, eccolo qua, Dons, in descrizione avete tutti i tutorial su come fare l'account, su come depositare i soldi, gli USDT, come inviarveli da un exchange esterno, come acquistare con la carta o col bonifico all'interno di BitGate, come spostare il conto future, il conto spot, trovate tutto, se vi va, vi segnalo questo, ovviamente non sono consigli finanziari, però alle due lo acquistate, aspettate un po' il pump e lo rivendete, sono soldi che si possono guadagnare, ovviamente non sono consigli finanziari, nessuno ha la sfera di cristallo, fate le vostre ricerche, quindi si acquista qui su Dons, ok? Se volete un approccio serio alle cripto, volete costruire un portafoglio cripto in modo serio e responsabile, vi ricordo che sono entrato nella TheServe Academy e quindi mi sto facendo seguire dai trader professionisti di TheServe che stanno costruendo due portafogli, uno da 1000 dollari, uno da 10.000 dollari, in descrizione vi metto il link alla video presentazione del progetto, guardatelo, facciamo 100k insieme, l'obiettivo di questi due wallet è acquistare nel mercato spot in modo tranquillo un portafoglio di cripto che poi nei prossimi 18 mesi cresceranno di valore e quando arriverà la prossima Burran noi avremo proprio un bel portafoglio che è già in profitto senza farci fregare dalla FOMO, dall'arrivare tardi, quindi dovresti prendere in considerazione, se vuoi davvero sfruttare il mondo delle cripto, di andare in descrizione, lasciare la tua mail, guardare la video presentazione. Abbiamo introdotto anche l'abbonamento trimestrale, lo puoi provare per tre mesi, ci sono tutti i dettagli, guarda la video presentazione, considera che io sono entrato qualche giorno fa e ho già ripagato l'abbonamento, a parte, sì, siamo quasi su, veramente, l'abbonamento annuale l'ho superato. Comunque ci sono tutte le informazioni, perché oltre ai wallet ovviamente, loro praticamente i trader condividono, stanno costruendo il loro portafoglio e ci dicono cosa stanno comprando in modo che noi lo possiamo replicare, però c'è pure una sezione dove ti danno dei segnali e io ho fatto un trader, vi ho fatto anche vedere il video, ho fatto uno short proprio perché seguito da loro ho fatto tipo 900 euro in 24 ore e già ti sei ripagato un po'. Quindi ragazzi, ci sono diverse sezioni, ci sono l'assistenza a 24 ore, le live ogni settimana per bilanciare il portafoglio, ci sono due wallet per tutte le tasche, se volete fare sul serio andate in descrizione e registratevi. Ok? Guardate la presentazione, vi spiego tutto, poi entrate perché ci sono proprio cose scottanti in ballo e già chi è dentro sta guadagnando, a prescindere dalla costruzione. Quindi costruiamo per il lungo termine un bel portafoglio nel mercato spot e però traiamo profitto anche quando c'è da trarre profitto. Te la puoi ripagare, l'abbonamento per tre mesi te lo ripaghi in un'ora, può succedere anche questo. Quindi dategli un'occhiata, link in descrizione, guardate la video presentazione e poi abbonatevi subito perché veramente si perdono soldi a restare fuori. Quindi oggi Dons, se volete, alle 2, questa meme coin nella meme zone verrà listata su Bitget. Vi segnalo che in descrizione trovate anche l'elenco dei trader italiani. Per chi vuole fare copy trading, ho raccolto tutti i trader italiani che si possono seguire. Guardatevi anche il video, gli unici due modi per guadagnare col copy trading, ve lo metto qui nelle schede. E uno di questi è conoscere proprio il trader. Quindi ho raccolto tutti i trader italiani, vi ho messo i link del profilo Bitget, così comodamente li andate a vedere. Andate su copytrading.michelemaralino.com e lo potete scaricare. Comunque tutti i link sono in descrizione e potete entrare in contatto con i trader, chiedergli che strategia utilizzano, conoscerli e praticamente farvi dire da loro come copiarli. E questo è un vantaggio per non perdere soldi. Bene, per oggi è tutto. Alle 2, Dons, meme zone, fate le vostre ricerche. Non sono consigli finanziari, però nei precedenti video dove vi ho segnalato i nuovi listing, le cose non sono andate affatto male. Quindi fate le vostre considerazioni. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!